70 pezzi unici, una collezione di gioielli preziosi, prima esposti in una mostra e poi da vendere all'asta, tutto questo per una causa molto importante. Il cogliè con 50 carati di diamanti e 20 di rubini e poi quest'anello, uno smeraldo colombiano. Infine, un girocollo con 55 carati di diamanti. Porta la firma di Marina Bulgari, ma volerlo così fu lei, la signora Mariuccia, la chiamavano tutti così Maria Giulia Fumagalli, amatissima moglie del noto imprenditore lombardo Luigi Agrati. 70 i pezzi unici di questa collezione mozzafiato, realizzati su disegno di artisti del calibro di Pomodoro, Mitorai, saranno esposti a Palazzo Crivelli a Milano e messe all'asta per beneficenza. La vendita all'incanto, e cui proprio d'incanto si tratta, si terrà il 25 e il 26 maggio prossimi, ad organizzarla al Ponte Casa d'Aste. Per volontà di Maria Giulia Fumagalli, il ricavato sarà interamente devoluto all'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS, all'Istituto Cottolengo, alla Fondazione Dognocchi e al Presidio dell'Ospedale Valduce Villa Beretta di Costa Masnaga. È solo l'ultimo gesto di generosità di Mariuccia, una filantropa che già in vita aveva donato per beneficenza una preziosa raccolta d'arte. Un piccolo tesoro che vanta anche gioielli firmati da celebri mesoni internazionali. Il nostro top lot è un diamante di 30 carati, di color champagne, certificato al Gia di New York, che è l'Istituto più autorevole, che ci ha dato una certificazione molto interessante per il mercato internazionale. Guardando questi gioielli ancora oggi, è possibile percepire l'emozione e la gioia di una donna che amava ricevere ed indossare gioielli come questi, capaci di farla brillare in ogni occasione.